Guidare è una cosa meravigliosa, una delle poche cose che ancora regala emozioni in questo mondo di merda. La libertà che trasmette è imbattibile, puoi raggiungere qualsiasi posto che tu voglia, quando ti pare e come cazzo ti pare. Puoi sentire la meccanica che lavora, il motore che risponde ai tuoi input, alcuni di noi farebbero di tutto per la propria auto, ma a volte lei cerca solo di uccidere te. Ecco quindi sei delle auto più pericolose di sempre. Andiamo! Quando si parla di Carrera GT scende sempre una lacrimuccia. È una delle auto più belle prodotte dai cruci, ma anche uno di quei mezzi che mettono in difficoltà anche i più lati esperti. Lei cercherà di attirarti con le sue forme filanti, il suo rombo, le sue prestazioni, ma cercherà di farti fuori appena possibile. È mossa da un motore V10 da 5.700 con 612 cavalli, il tutto gestito da un manuale 6 marce. La Porsche non riteneva utile montare aiuti alla guida sulla Carrera e quindi qui è tutto analogico. Inoltre aveva bisogno di gomme specifiche che nessun produttore faceva, quindi o metti gomme vecchie di plastica o le metti sbagliate. Una volta che si perde trazione, non c'è nulla che tu possa fare per via della sua estremizzazione meccanica. Ma è iniziare a pregare e lasciare decidere al fatto il proprio destino. L'industria automobilistica svedese è sempre stata famosa per l'amore per la sicurezza, piuttosto che della velocità. Ma a Konigsoid non fregavano a merito quarto di minchia e si mise a produrre supercar estreme in grado di battere record su record. È il caso della CCR, che con i suoi 388 km orari distrusse i record di velocità delle autostradali. Spinta da un motore vuoto da 4.700 con 806 cavalli, questa macchina non aveva nessun controllo alla guida. Soprattutto però non aveva appendice aerodinamica. Provate a chiedere allo Stig che cosa voglio dire guidare una macchina del genere. Quelli sono soldi che volano, eh? Tanti soldi che volano, te lo dico. Dopo questo episodio, Konigsoid decide che era meglio di rinunciare a un po' di prestazioni per puntare alla sicurezza. Ecco quindi che esordì l'alettone posteriore. Oh ragazzi, questa è la mia macchina preferita. Solo perché è una macchina economica, non vuol dire che debba essere progettata con il culo, eh? Il design può piacere o non piacere. Per me fa cagare, ma gli assemblaggi e la qualità generale a livello delle peggiori cinesate su Alibaba sono un lato di fatto. Ma se i problemi fossero solo questi, ci potrebbe anche stare, dai. Ma la Pinto aveva un leggerissimo problema di progettazione, talmente piccolo che quasi non te ne accorgi, visto che ti uccide all'istante. Il serbatoio di plastica, infatti, era posto direttamente dietro a paraurti. Bastava una semplice tamponatina per bucarlo e far saltare tutto. Il talaglio di carta stagnola poi si piegava con niente e bloccava le portiere con te dentro. Simpatico, vero? Un cifro. La Ford fortunatamente sistemò questa cosa. No, mago per il cazzo. Infatti la casa produttrice capì che effettuare un mega richiamo era molto più costoso che rimborsare le vittime. Fortunatamente le vendite collarono a picco e marchiò per sempre la reputazione della Ford. Le auto vennero poi richiamate e la Ford fu costretta a spendere un capitale per sistemarle. Ma comunque non risolvò il nome dell'azienda e del modello. Tra l'altro, lo slogan della Pinto era Pinto leaves you with that world feeling. Mettere un motore potente su una macchina a trazione anteriore comporta non pochi problemi. Aspettarsi che le ruote anteriori pensino a curvare, a trasferire la potenza a terra, il sopporto in appeso dell'auto è semplicemente da idioti. E ancora più idioti sono i costruttori che continuano a farlo. Ficchiamoci i mille controlli elettronici, sospensioni complicate, pesanti, tanto sono scemi, le comprano lo stesso, si rincoglioniti. Beh, la Vectra VXR non aveva neanche queste cose. Era solo una semplice berlina a trazione anteriore a cui hanno ficcato sotto un 2008 V6 Turbo da 280 cavalli. Hanno messo freni più grossi e colorati, sospensioni più basse e dure e sedili scomode. Auto sportiva anni 2000 starter pack. Cosa potrà mai andare storto secondo voi? Tutto. L'auto soffriva di torque steer, ovvero quel fenomeno che si verifica quando le ruote anteriori slittano in accelerazione e la macchina inizia ad andare dove cazzo pare lei. È un po' come sulla SF14T che o si va via di sovra sterz, o si va via di sottosterz, o si va via se di sovra sterz, che di sottosterz. Il peso è tutto sulla sale anteriore, quindi o vai dritto senza possibilità di recuperarla, o ti parte il culo ritrovandoti Gesù seduto sul sedile passaggero con la sigla in bocca che ti dice la finisco e poi andiamo. Quando si parla di Porsche, si parla di fredda precisione e efficienza meccanica, una caratteristica cruca inconfondibile. Ma al volante di questa macchina rischi di diventare più freddo tu di lei. Da quando è uscita la prima volta nel 1963, la 911 montava il motore nel posto sbagliato, o almeno il posto era giusto, ma era posizionato nel modo sbagliato. Infatti era messo a sbalzo sulla sale posteriore, rendendo il posteriore molto, anzi troppo difficile da governare. I modelli più recenti hanno risolto questo problema e sono delle vere e proprie meraviglie meccaniche, ma in passato questo layout le rendeva delle auto veramente assassine. Quando il posteriore partiva, non c'era davvero nulla che tu potessi fare. Dovevi solo accendere un cero a quella porca della ma... Potevi anche essere un pilota, ma non ti salvavi. Tutto peggiorò quando arrivò la 911 Turbo. Che cosa aveva in mente? Una bestia anni 70 con un 3000 da 260 cavalli sotto un veicolo in lamiera da 1200 kg. Un turbo lag devastante. Nessuno sa cosa si prova quando quel turbo entra in pressione, semplicemente perché non esistono sopravvissuti. Cioè, molti di voi ne avranno sentito parlare come la fabbrica di vedova. Oh, eccoci qua, Mr. Bean. Lo so, lo so, è una carriola che a sento si muove, ma aspettate. Una legge alquanto terrificante nel Regno Unito diceva che se un veicolo ha solo tre ruote e pesa meno di 450 kg, allora doveva essere omologato come motociclo. La Reliant sfruttò questa legge e si mise a creare piccole auto tre ruote che si potevano guidare anche solo con la patente per la moto. Si pagavano anche molto meno tasse, il che era stupendo in un paese che era appena uscito dalla seconda guerra mondiale e stava vivendo una grossa depressione. Guardandola, si capisce subito perché questa macchina si ha il primo posto in classifica. Per via della monoruota anteriore, qualsiasi manovra di emergenza era esclusa. Le curve sopra i 20 km orari anche, i dossi pure. Le buche ti facevano caputare, i freni non frenavano e via così verso la morte e oltre. Appena la forza G laterale raggiungeva livelli assurdi come 0,01G, ti ritrovi a rotolare in una macchina economica in fibra di vetro progettata negli anni 40 e venduta fino al 2001. Un sogno. Non ci voleva molto a metterne due davanti, una dietro, ma questo avrebbe richiesto una riprogettazione. Ma io amazzare la gente gratis. Nella storia sono esistite auto altrettanto pericolose e forse pure di più. Ditemi nei commenti se volete una parte 2. Alcune sono insospettabili e... Sì, scrivetelo nei commenti. Lasciate like e iscrivetevi per supportarmi se vi va, altrimenti andate a fanculo che poi vi raggiungo, forse. Ciao scarburati!